Ciao ragazzi, 18 di marzo, noi arriviamo ora che un giassabra con il 21 di marzo del 2005 noi siamo con il signor Fefe Raffella di organizzazione politica IPB per essere in carica e parte per dismantellare il bactolo che vuole armare i bacai è differente da qui in buon'Europa, lo che sta è propaganda di parte del partito politico IPB signor Fefe Raffella, noi siamo con un'organizzazione a complicarlo cabalmente, che parte? Ok, grazie Fefe, e tutto questo direttore? Ok, grazie Fefe, e tutto questo direttore?